Salve, sono Paolo Ercoli, sono responsabile dei corsi di ScuolaTown nelle sedi di Milano e di Roma. Oggi vi voglio portare a visita la sede di Roma. ScuolaTown nasce nel 2006 da un progetto di Massimo Muccioli ed apre i suoi corsi a Bologna. Io e Lidia Crespi siamo chiamati all'organizzazione del corso di Tuinà, quindi ci occupiamo dei programmi, del Monte Ore, di organizzare tutta la struttura del corso e di preparare le dispense del triennio. La sede di Roma è la sede più giovane. È iniziata nel 2016 con il corso di Fondamenti di Medicina Tradizionale Cinese e adesso abbiamo il corso di Fondamenti di Medicina Tradizionale Cinese e il corso di Tuinà. Qui si svolge la pratica di Tuinà. La sede di Roma è in prossimità della stazione Meto della Piramide ed è quindi facilmente raggiungibile alla stazione Termini con pochi minuti. È anche vicina alla stazione dei treni Ostiense che è direttamente collegata all'aeroporto di Fiumicini. Questa è la classe dove si svolgono le lezioni di teoria. Le lezioni di Medicina Cinese sono comuni a tutti i corsi. Questa è una lezione di localizzazione dei punti. Questa materia è presente sia nel corso di Tuinà che nel corso di Fondamenti di Medicina Cinese. I corsi si svolgono nei weekend con cadenza mensile e gli orari sono dalle 10.19 il sabato e dalle 9 alle 18 la domenica. Abbiamo diverse opportunità per venirci a conoscere la lezione. Nel mese di giugno abbiamo sempre una lezione aperta, una lezione proprio dell'anno di corsi in cui si può partecipare, conoscere anche gli allievi, i docenti, partecipare proprio dal vivo ad una lezione. Poi in autunno abbiamo l'open day, in cui viene spiegata tutta l'organizzazione dei corsi, i programmi, i contenuti, molte ore, eccetera. Ma se non puoi partecipare a questi eventi, puoi sempre chiedi di venirci a trovare la lezione.